Ed è ancora la volta di uno sketch, i ragazzi di recitazione, anzi una ragazza, perché ci farà ascoltare un brano adattato proprio da Marco Colibazzi? Allora sì, dobbiamo dire che questo è un piccolo spazio al teatro verità, ecco, quindi è una cosa un po' particolare che non è mai stata eseguita, almeno fino adesso, e quindi c'era una cosa da comunicare, Sveva, Cerica, dove sei? Vieni, vieni, anche perché è una cosa un po' particolare, come dicevo, non sempre il rapporto tra genitore e figlio è, diciamo, idilliaco, e quindi lettera a mia madre. Dunque, lei sa che sono, comunque, è una figlia un po' ribelle, no? E dunque in questo periodo ho dovuto prendere una decisione drastica. Oh mamma mia, ci dobbiamo preoccupare? Eh, abbastanza, quindi mo leggero questa lettera per mia madre e ditemi si va bene. Quindi ascoltiamola. Grazie. Cara mamma, mi dispiace molto doverti dire che sto per andarmene, col mio nuovo ragazzo. Vado a vivere in un paese dell'Africa centrale, il cui nome è impronunciabile, in una baracca senza corrente, non preoccuparti, se minavo una volta a settimana, se accendiamo le candele e non ho più internet. Non importa, no, non importa, perché con lui, con lui ho trovato il grande amore. Dovresti vederlo, è così bello, tutto storto, senza denti, pieno di tatuaggi. Poi c'ho i capelli inciafrugliati che non se lava da cinque anni, no? No, non è tutto, no. Mustafa dice che staremo benissimo, anche se lui non ha pretese né obiettivi. Non vedo il presente e manco il futuro. Lui dice che viva la giornata, seguo il Carpe Diem. Scusa, che segue? Il Carpe Diem. Per passare il tempo, revistano i cassoni. È pieno dei debiti, infatti mi chiede sempre i sordi. Tutti lo cercano ed è per questo che scappiamo in Africa. Per sentirci dobbiamo aspettare che il satellite si alieni ogni tre mesi. Però mamma, non preoccuparti, perché io sono una donna ormai. mi sa badare a me stessa. Poi deve essere croccato da certi tipi grandi e grossi. Dovresti vederlo quanto è bello, tutto insanguinato, come un uomo vero. Immagino. Mi piace. Ti lascio dicendoti che nella vita ci sono cose molto peggiori della pagella che ti ha lasciato sul comodino. Ti voglio bene, mamma. Che dici, può andare? E che può andare? Grazie. Mamma mia, un'angoscia. Tutto insanguinato, Mustafa. Mustafa, si vede che era caldo. Se c'era l'afa. Mamma mia, un'angoscia. Mamma mia, un'angoscia.